Il mio nome è Ezio Auditore, e vengo da Firenze. Quando ero giovane, ho visto la mia famiglia morire per un complotto, per impossessarsi di un oggetto sacro, la famosa Mela di Lopwen. Mi vendicherò di chi ha tradito la mia famiglia e scoprirò dove si trova la Mela di Lopwen. Sono Ezio Auditore da Firenze, e sono un lopendista. Grazie a tutti.